Dove vi aspettate che il cambio euro-dollaro si posizionerà? Lo troveremo sotto quota 1,05 oppure nel range tra 1,05 e 1,20 oppure sarà risalito sopra quota 1,20? Queste sono le tre risposte, 1, 2, 3, votate! Allora, 2, quindi sarà compreso tra 1,05 e 1,20, quindi la flessione che lo ha caratterizzato dall'inizio del 2014 a oggi non si accentuerà oltre o meglio non si accentuerà così tanto perché la maggior parte degli ospiti che abbiamo qui in sala e 74% pensa che sarà compreso tra 1,05 e 1,20.